Oggi con questa inaugurazione credo che sia un segnale importante di rinnovamento, di ripartenza. Abbiamo rimesso a nuovo il depuratore del capoluogo e quindi credo che sia un primo intervento che è costato circa 530 mila euro, che fa parte degli interventi di sommurgenza che in questo comune abbiamo speso circa più di un milione di euro. Da subito l'azienda si è messa a disposizione con i suoi uomini per ripristinare un minimo di situazioni di igiene minimali ma ora oggi abbiamo ripristinato in maniera completa ma siamo pronti anche ad andare oltre a fare in modo che con gli interventi e con le somme che verranno messe a disposizione della struttura commissariale potremo non di locco mettere in sicurezza in maniera completa da questi eventi però far sì che le reti, gli impianti di questo territorio, perché non parliamo solo di Cantiamo ma parliamo di un territorio più vasto, possono essere messa a sicuro rispetto ad altre possibili situazioni di questo tipo che si dovessero verificare nel futuro. Quella di oggi è una giornata importante in cui ridoniamo alla comunità un servizio essenziale legato alla depurazione delle acque che torna a essere pienamente funzionale dopo quel tragico evento del 15 settembre. Con una prospettiva che guarda con fiducia al futuro stiamo collaborando con la struttura commissariare legionale per cercare di accelerare la messa a terra delle risorse per poter mitigare il rischio e quindi mettere in sicurezza e dare certezza che quanto è accaduto non possa riaccadere soprattutto anche come ringraziamento a quanti hanno voluto che Cantiano non si fermasse a quanti hanno riaperto, a quanti sono ritornati nelle proprie abitazioni quindi ecco dobbiamo accelerare su questo intervento di pulizia dei fiumi e creazione di opere spondali che possano mettere in sicurezza il territorio. Entro fine anno c'è la scadenza per la presentazione delle domande che poi come lei sa dovranno essere tutte rendicontate alla protezione civile dopodiché ci sarà il fatto proprio economico e finanziario che i danni, la seconda trance di danni verrà ristorata alle famiglie, alle imprese che sono state colpite. Abbiamo immesso sul territorio circa 70 milioni di euro, più altri 20 milioni per gli interventi di somma urgenza. Siamo pronti con una cifra importante accantonata superiore ai 100 milioni di euro per i ristori non appena si concluderà questa fase di ricognizione al 31 dicembre poi ci saranno 45 giorni per l'istruttoria da parte dei comuni e poi il 2024 si apre con il discorso importante delle opere strutturali con il piano del commissario che supera i 100 milioni di euro che andrà in approvazione definitiva fra qualche giorno.